Quattro punti all'ordine del giorno, una giornata di attesa e tutta la Serie B ed oltre appesa ad un filo per conoscere quale sarà il proprio destino. Tutto resterà in bilico per le prossime ore, mentre a Roma, al Folitalico, il Collegio di Garanzia del Coni discuterà di come il calcio italiano potrà uscire dalle sabbie mobile in cui è finito. L'attesa è tanta, comincia alle 12, quando Franco Frattini e i suoi si siederanno sulle poltrone del Salone d'Onore. Le ipotesi sono diverse, la domanda una soltanto. Sarà rivoluzionata la composizione del campionato di Serie B e di conseguenza anche quello della C e della D? Sono sei club che vivono sulla lama del rasoio questa attesa che potrebbe rivoluzionare il loro futuro. Catania, Novara, Ternana, Provercelli, Siena e Virtus Entella attendono di conoscere la categoria in cui giocheranno. Il quesito sulla scrivania dell'ex ministro Frattini è semplice, si fa per dire. Bisognerà decidere se il cambio di format in corso attuato dalla Lega di B da 22 a 19 club è conforme alla legge. Successivamente il Coni dovrà pronunciarsi anche sul ricorso del Novara presentato contro la delibera sui criteri di ripescaggio e di esclusione. L'Avellino resta alla porta con Bari e Cesena. Le sensazioni della vigilia vanno nella direzione di un ritorno alla composizione ordinaria della cadetteria, con il Coni che di fatto potrebbe sbugiardare sia la Lega che la FIGC nella persona del commissario straordinario Roberto Fabricini, in una delle poche decisioni prese in questo periodo di discusso interregno. Ipotesi dunque, nulla più. La verità si conoscerà solo attraverso il solito comunicato ufficiale, atteso per la serata quando i giochi potranno dirsi conclusi e magari finalmente si potrà cominciare a mettere un po' di ordine nel caos.